Attenzione! Questa è una previsione dei terremoti. Allarme sismico. Allarme sismico. Allarme sismico. Allarme sismico. Allarme sismico. Attenzione! Il prossimo terremoto, a partire dalla magnitudo 5.0, avverrà in Italia tra il 2022 e il 2024. Allarme sismico. 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 Il governo italiano, ha sempre tenuto nascosto, il reale rischio sismico, e non ha fatto quasi nulla per la prevenzione antisismica. Abbandonando così, i suoi cittadini al loro destino. Il governo italiano preferisce investire soldi per la guerra e lascia morire i suoi cittadini sotto le macerie. Tsunami 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 Tsunami